Tutto campo. Esatto, sì, perché facendo divulgazione scientifica, se tu parli di astronomia, se tu parli di fisica, in realtà ne parli e basta. La sanità, più che la medicina, però la sanità, la medicina applicata, ci riguarda tutti, siamo tutti pazienti. Io, appunto, è capitato che per un reportage su un narcotraffico sono stato appunto da un insetto in Colombia e sono finito in terapia intensiva, diciamo, qui a Roma. La terapia intensiva, insomma, è sostanzialmente un acquario dove chi ti viene a visitare viene bardato di blu, sta a tre minuti e quindi esce più preoccupato che non rassicurato. Volevo capire se era solamente quella la modalità e, guarda caso, in Emilia Romagna ho trovato che la terapia intensiva è aperta. I parenti possono entrare, fanno parte della cura, non si devono bardare, si devono solamente lavare le mani e praticamente questo ha portato a dei risultati eccezionali, cioè meno crisi di panico, deliri, ipotensioni, ipertensioni e quindi è veramente una risorsa. E da lì ho scoperto che tutto l'approccio di quella regione è incredibilmente votato a sperimentazioni positive che diventano sistema proprio per il benestare del paziente e questa cosa la trovo in grande linea con il pensiero emotivo. Una data per il tutto.